Vedremo a fine anno ma chiuderemo purtroppo con una perdita d'esercizio. Nonostante le procedure agevolate garantite dall'apporto di azienda zero, gli uffici amministrativi di Usdolomiti hanno dovuto cambiare totalmente modo di lavorare in questo anno di pandemia che ha inciso in un poco sul bilancio dell'azienda sanitaria. Lo afferma Rosanna Zatta, riconfermata nel suo ruolo di direttrice amministrativa dell'azienda sanitaria delle Dolomiti. Un elemento di continuità nella gestione Carraro scelto per i settori economico, amministrativo e gestionale di ULS1 mentre alla direzione sanitaria da ULS4 arriva la dottoressa Maria Caterina De Marco esperta nell'implementazione di sistemi informatici e di telemedicina. Si può portare direttamente la medicina a casa del paziente. Immaginate che ci sono tutta una serie di strumenti semplici da utilizzare sia dal personale infermieristico che dal personale dell'assistenza domiciliare con il quale si possono fare i monitoraggi dei pazienti direttamente a casa senza necessariamente farli spostare. La telemedicina dunque come soluzione alle necessità del territorio quello di montagne in modo particolare profondamente segnato dal coronavirus ma che da questa emergenza ha tratto insegnamento su pratiche di controllo e monitoraggio a distanza. La situazione epidemiologica nel Bellonese resta la sorvegliata speciale. La situazione che guardiamo con particolare attenzione non abbiamo una pressione come a novembre però è una situazione che non ci fa stare molto allerta, molto molto vigili. Con la giusta soddisfazione Carraro ha appreso dell'ottima performance guadagnata sul campo da ULS1 dall'avvio della campagna vaccinale. Credo che questo sia il risultato di un lavoro che è stato davvero fatto insieme buttando tutti quanti un po' il cuore oltre l'ostacolo però ce l'abbiamo fatta.